Sono stati sequestrati dai carabinieri quattro autolavaggi in prosecuzione di un'operazione che ha avuto inizio qualche settimana dietro, coordinata dal sostituto procuratore Luigi Leghissa, che non ha ritenuto fossero in regola gli scarichi degli impianti, infatti non ha norma industriale. Gli investigatori hanno individuato tutti gli impianti di autolavaggio in città e hanno verificato lo stato delle autorizzazioni in possesso di ciascuno dei proprietari. Contestualmente sono stati accertati numerosi che erano gli impianti di autolavaggio privi di autorizzazione e dopo aver rispezionato ciascun autolavaggio insieme ai sanitari dell'Asp sono scattati sigilli per quattro di essi che non sono stati ritenuti a norma.